L'importanza di parlare è promuovere la sicurezza sul lavoro attraverso misure di prevenzione e protezione al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi dall'attività lavorativa. È l'obiettivo del ciclo di incontri organizzati sull'intero territorio pugliese dall'INAIL e dal Comitato Paritetico Regionale Pugliese in collaborazione con diversi enti e associazioni del territorio. La formazione è molto importante, spesso è sottovalutata perché viene considerata talvolta come una periodità di tempo da parte delle imprese e dei lavoratori, però in realtà ha un ruolo fondamentale perché nel momento in cui ci si trova davanti a un pericolo sapere come affrontarlo è importante per poter poi attuare le procedure corrette e comunque rientra in un percorso fondamentale per poter costruire quella che viene definita cultura della sicurezza. Obiettivo dei seminari è quello di sensibilizzare i lavoratori imprenditori sui temi della sicurezza attraverso interventi formativi mirati e la contestuale distribuzione di un manuale informativo multilingua appositamente predisposto che sintetizza le principali misure di sicurezza da adottare in cantiere. Questo è un bando che abbiamo fatto insieme all'INAIL di Puglia, quindi insieme a loro abbiamo organizzato questi convegni di informazione che servono sia ai lavoratori italiani, ai lavoratori esteri che ce ne sono tanti in Puglia, che possono essere di beneficio, diamo pure delle brochure, diamo dei volantini, diamo dei libretti informativi e poi possono anche leggere e informarsi. Comunque noi poi siamo sempre a disposizione di qualsiasi informazione successiva.